Questa volta il ciclone che investirà l'Italia ha un nome francese, Bernard, e non sarà per niente gentile, soprattutto per alcune regioni. Almeno fino all'ultimo fine settimana di ottobre il paese sarà raggiunto da due perturbazioni, la prima di queste particolarmente forte, accompagnati poi da venti piuttosto sostenuti. D'altronde, quando la porta atlantica, dicono i ben informati, è aperta, le perturbazioni trovano la via facile per scendere verso l'Europa meridionale. Quando si dice che la porta atlantica è aperta significa che le perturbazioni in arrivo dall'oceano non hanno alcun ostacolo per raggiungere l'Italia, sarà così anche nei prossimi sette giorni. Il tempo comincerà a peggiorare già nelle prossime ore quando si avvicinerà la prima perturbazione, la più forte. Cielo coperto in Piemonte con qualche piovasco, nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà via via più fortemente, soprattutto in Liguria, e verso sera le piogge avranno conquistato tutto il nord-ovest. Il sole invece continuerà a splendere altrove. Martedì sarà la giornata più perturbata della settimana ed infatti il maltempo transiterà al nord, raggiungendo entrosera pure il centro tirrenico come Toscana e Lazio. Le precipitazioni potranno risultare anche abbondanti e sotto forma di nubifragio, specie in Liguria. Da giovedì arriverà la seconda perturbazione. Dopo una prima parte del giorno piuttosto stabile, a parte le nebbie al nord, il tempo peggiorerà dalle Alpi verso le zone pianeggianti del settentrione. Questa volta il maltempo raggiungerà il sud nel corso di venerdì. Nel frattempo altrove il tempo migliorerà decisamente grazie all'aumento della pressione, tanto che le temperature poi tenderanno ad aumentare anche di notte e si arriverà di nuovo a toccare i 30 gradi, soprattutto al sud.